Buongiorno. Posso? Prego. Io non so come tu abbia fatto, ma ha chiamato la PM e mi ha dato il via libera per lasciarti vedere il tuo fidanzato in galera. Grazie. Stai facendo una stupidaggine. Ti farei soltanto del male. Tu pensi che io sia una stupida, vero? Tu cosa saresti disposto a fare per amore? Perché ho tutto. Io non credo che Ivan farebbe la stessa cosa per te, sai? Non lo so, ma non mi interessa. Guarda che non è come dici tu. Non c'è solo do o des, dare per avere. Ah no? No, perché l'amore non funziona così. Ho dei tutto, non vale niente. E io amo Ivan. E farò tutto per lui. Anche finire in galera?